Due derby abruzzesi caratterizzano la decima giornata di Serie D. C'è quello del Vomano tra Notaresco e Castelnuovo, un confronto che lo scorso anno è solo sempre ad appannaggio dei rosso-blu di Massimo Epifani. Il Castelnuovo dunque l'obiettivo di invertire l'ultimo trend e di rilanciarsi dopo lo stop casalingo col Trastevere che però lascia strascichi in casa nero-verde. Il tecnico guido di Fabio dovrà infatti rinunciare agli squalificati Marianeschi e Ripa e all'infortunato Cangemi e medita di fare sordire dal primo minuto l'italo-argentino Bolo. Sul fronte Notaresco la squadra tornerà a giocare in campionato dopo 20 giorni a causa dello stop covid. Il discreto match di Coppa ha perso i rigori con la San Benettese, è stato utile per trarre indicazioni ma da domani il risultato tornerà a pesare con il rosso-blu potenzialmente a meno due dalla vetta. Sarà un incrocio di ex, Terrenzio ed Egidio da una parte, l'Oviso dall'altra anche se quest'ultimo sta incontrando tanti problemi a causa di un infortunio che lo tormenta da inizio stagione. Altro derby è quello del Mariani Pavone, il Pineto ospita la Avastese con l'obbligo di centrare i tre punti. Le ultime due immeritate sconfitte esterne sono costate l'attuale meno 5 dalla vetta, un distacco che andrà colmato. Così l'attaccante pinetese Matteo Minnozzi. Sì, siamo rammaricati di aver lasciato punti a Porto d'Ascoli ma uno stimolo in più per noi per fare bene domani. Abbiamo tanta voglia di riscatto e l'occasione giusta. Ma sicuramente la voglia di far bene, quella c'è sempre, c'è sempre, a prescindere che sia derby o meno, noi dobbiamo pensare a noi stessi e a fare bene e non vediamo l'ora che arriva di domani. Vastese d'altro canto, rigenerata dalla vittoria in zona Cesarini con la San Benetese, mancherà in panchina l'allenatore Fulvio D'Aderio, fermato per un turno dal giudice sportivo, aragonesi che si affideranno alla vena ritrovata di Alonzi e soprattutto a uno degli ex della gara, Alessandro, per scalfire la retroguardia di Pomante. Trasferte per Chieti e Nereto, in roverdi Teatini si ritroveranno di fronte la San Benetese in un match che manca dal 2016 quando il Chieti spugnò il Riviera delle Palme 1-2 con reti di Massimo e Dos Santos, impresa abbissata già quest'anno ma contro il Porto d'Ascoli. Seconda trasferta consecutiva per la squadra di Luca Relli che deve dare altri segnali positivi dopo quelli di Piedi Montematese dove si è vista una squadra solida ma spuntata. Mancherà Fabrizi ma è recuperato almeno per la panchina Rodia da scegliere il partner d'attacco di Acamadu. Nella San Benetese assenti lo squalificato Lorenzoni e poi Lulli e Angiulli vanno verso il recupero gli attaccanti De Sena e Ferrimarini, quest'ultimo al massimo per la panchina. Per il Nereto gara sulla carta proibitiva sul campo della seconda forza del campionato, il Fiuggi. La prima vittoria però ha dato maggiore serenità alla squadra di Bitetto che tenterà di massimizzare gli sforzi al Capo Iprati.